Seca sconfitta per la Cali Calguero che perde 72-54 ad Ancona. Le ragazze del gruppo Smale nate da Beppe Caboni hanno condotto l'intero match aumentando progressivamente il vantaggio. Se il primo quarto è stato equilibrato con le padrone di casa sul più 2 e 14-11, il secondo parziale è stato decisivo nell'economia del match. Infatti le due formazioni sono rientrate negli spogliatori sul 39-26 per Ancona. A rientro dall'intervallo lungo si riasiste ad una partita equilibrata con gli algheresi che però recuperano un solo punto iniziando l'ultimo quarto sotto di 12 sul 55-43. L'ultimo periodo è praticamente plionastico con Scrastina e compagni che allungano fino al più 16 finale. Best score del match è Carola Sordi, autrice di ben 35 punti ed unica marchigiana in doppia cifra. Una sola ragazza in cifra doppia anche tra gli algheresi, Roxana Jordanova con 12 punti.